Siamo abituati più a dividere che a unire. L'universo stesso si presenta come l'opposizione di due metà, bianco o nero, calma o ira, buono o cattivo. Gli opposti non sono elementi contrari tra loro, ma le componenti di una stessa unità. Il Tao, Yin e Yang, è il simbolo dell'assoluto. Rappresenta l'uno, il perfetto equilibrio tra le due energie. Attraverso la pratica e la meditazione ho trovato l'unione tra le due forze. Kung Fu è lavorare duramente. È eterna maestria, disciplina e consapevolezza. È un cammino che unisce mente, corpo e spirito, svelando l'armonia degli opposti.